Buongiorno 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 Volete venire Veronica è riuscita a cominciarmi a fare il primo video su youtube Ma si sveglierà mai dopo le sette e mezzo Niente, prima video su youtube E cosa poteva essere se non Sul Il pasto più importante della giornata Cioè la colazione E la colazione è senza dubbio Il pasto più importante E' assoluto il mio preferito Quello in cui ci si può sfondare di più Si, un tempo non la facevamo neanche Da qualche anno abbiamo iniziato a farla abbondante Se una volta era solo tipo Come molti Caffè, bicchiere d'acqua, un bicchiere di latte Magari un biscotto e via Invece no ragazzi Dedichiamo un po' più tempo alla colazione Svegliamoci, non so, 20 minuti prima Passiamo alla fase divertente Andiamo a fare colazione Allora Cosa volevo dirvi Andiamo a fare colazione Mi porto con me Vediamo cosa sta iniziando a preparare il torto Si, io dormo con cose a caso Tipo le prime cose che trovo La sera prima Sempre Tutti i pasti ricordiamoci Dobbiamo quasi sempre riuscire a inserire I tre macronutrienti principali Che sono i carboidrati, i grassi E ovviamente le proteine Quindi partiamo di andare dai carboidrati Al mattino una Eccellenti carboidrati perché Abbasso l'indice glicemico Riescono a ripulire l'intestino eccetera E' l'avena, famosissima Questa ce ne sono 180.000 diverse Pura colazione A ciotole No, prendi quelle colorate dai fianco Quelle colorate Ah, viola E verde Tanto Acqua calda Bollitore o tentolina E l'accendante Veronica In questa fase In cui comunque si allena E ciotole Può stare tranquillamente Intorno ai 30-35-40 Grammi di avena Io invece Sono in un periodo in cui Sono praticamente Né massa né definizione Ma Qualità eccetera Lo stabilissimo Intorno ai 70-80-90 grammi Quindi semplicemente La buttiamo dentro Ma considerate che io Sono anche in un periodo in cui sto cercando di Di rimettermi un po' in setto Dopo il mese delle fashion week Ok Quella è la vina No ma guardati Quante cose carine ci sono Nella cucina di Chiara tra l'altro Vabbè io amo questa casa 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 Secondo step Frutti di bosco Mirtilli Banana Avocado Grazie Il mio unico grande amore Marmellata Light Naturalmente E una cosa che facciamo sempre Cos'è? Di solito svegliarci Per in prima cosa Bere un bicchiere d'acqua Assolutamente Un bel bicchiere d'acqua Per Per tutti i vari motivi Tu vuoi che togli tantissimo La fame Qua siete super disidratati A tutta la notte Esatto Ecco lei piace bene O ghiacciato E non riuscire mai a bere Non tirare un bicchiere ghiacciato Per me E anche un po' ambiente Aspetta Documentiamo Silvia bene sta bollendo Pronto Ci fidiamo Ci fidiamo Ci fidiamo Con un po' di cosi Ecco Ecco Ma ti sei macchiato la maglietta E' acqua amore E' La mia grande abilità Bene acqua Mentre faccio un video Cannella Cannella Cagole Cagole Mirtilli E' Questo genere di frutti Solitamente frutti di bosco A giorni in cui Al termine magari con una banana C'è il cervello C'è il cervello più alto Sicuramente più calorica Però è giusto Cambiare un pochino Oggi non è che farò un allenamento tanto pesante Quindi magari Andiamo di frutti di bosco Tocco finale Latte di mandorla Non è il latte di mandorla Quello siciliano Questo tipo di Ma come metti il latte di mandorla Nel caffè O nella vino Non è il latte di mandorla Quello fatto con la pasta di mandorla Eccetera Ok E' proprio un altro tipo di pollo In Italia si usa pochissimo Dunque si sono trovate il latte di mandorla Latte di soia Latte di soia Pieno I vostri carboidrati Sono pronti E non sono come quelle di Guardate quanto è più bella la sua rispetto alla mia Beh vabbè Uova se possono fare Vabbè sicuramente Albumi uova Li trovate ovunque Non trovate scuse Sono buonissime Eccetera Albumi Perchè niente è La fonte proteica migliore che esista in assoluto Perchè è più pulita Più pulita in assoluto Praticamente sono bene Oltre ad essere pochissime calorie Contengono solo proteine Veramente pulitissime Quindi qua di grammi Stiamo Stiamo Sui 150 circa Per Veronica Sembrano tanti Ma in realtà i grammi di proteine non sono così tanti Cioè 150 grammi di albumi Avranno 15 grammi di proteine Neanche Quindi Ecco A noi piacciono A noi piacciono tantissimo anche solo gli albumi Mentre molti cosa fanno Ogni tanto facciamo anche noi Aggiungiamo magari un tuorlo agli albumi Quindi un uovo più i grammi di albumi che queste solite mettere Uno spruzzino Che in Italia è difficile trovare Però E via così In Italia non sostituite la spruzzina se non la trovate con l'olio Perché è letale È la stessa cosa Non pensate Anche se tu zero calorice non è vero È solamente Espluzza talmente poco Che le calorie Toricamente non vanno a influenzare L'apporto calorico eccetera Però è puro olio solo che è Piuttosto che comprate Cercate ovunque una padella decente Piuttosto che mettere l'olio Cioè in Italia usiamo una padella super adederente E non mettiamo neanche lo spray Qui c'è Quindi ci sta Ami Comunque questa è una delle cose che Quando anche i nostri amici vengono a casa magari a dormire da noi Ci vedono mangiare i bianchi d'uovo Rimangono scandalizzati Dicono Che schifo A noi piacciono Poi ci sono tante cose che All'inizio magari vi dovete un po' imporre Tra virgolette E poi dopo col tempo vi cominceranno a piacere E ne diventerete tipo dipendenti Quindi Non vi preoccupate Quindi abbiamo detto Carboidrati Proteine Mancano I grassi Brava Vai su aggiungere i grassi Mentre faccio le mie Che faranno un po' ridere Un po' tutti Perché questi sono Letti tipo 120 grammi di albumi Più Un uovo Intero col tuorlo Mentre la mia Sono Dieci Albumi Più Un uovo intero Ci siamo quasi Di solito Questi avocadi Avocadi Si dice il plurale Sono minuscoli E quindi Di solito facciamo metà avocado E dividiamo la metà in due Sì Un quarto di avocado a testa Un avocado medio Questa è la dose più o meno giusta Questo è il mio piatto Oh Perfetto È tutto perfetto fino a questo momento del video Fino a quando non ho iniziato a cucinare qualcosa io Ragazzi non abbiate paura del sale ok Sì ok Sì ok non dovete esagerare Il sale non fa bene L'intenzione di carogine Ma non abbiamo per fuori paura del sale Basta bere tanto E non succede niente Adesso vediamo come si apre Intanto mettiamo Giusto un pochino di sale Voilà Tiene amore Vieni ragazzi Così Sì ok Sì ok Sì ok Sì ok Inizio ad apparecchiare la tavola Ah manca il caffè Cosa fondamentale Ora scamberò le ciotole e mangerò questo No dai Cerchiamo di contenerci La cosa importante è Come per il sale Come per tutto il resto Cioè se facciamo una dita iperproteica Comunque Basata sullo sport Il concetto è Bere tantissimo Cioè bevete sempre tantissimo Tutto il giorno Intanto il caffè è pronto Caffè espresso quello che volete Noi amiamo il caffè americano A casa però facciamo sempre l'anespresso A casa però facciamo sempre l'anespresso Abbiamo pure Il mio avocado è qua Ah scusa Ma Si è identica E anche l'unica cosa che dovevo fare Direi non male Se magari non ci avete voglia di dissaporire un po' le uova Pepe sale eccetera Però pure a me tanto piace una cosa schifosissima Che però piace solo a me Ti sento di marmellata L'Aero light Che trovo sempre in Italia Comunque Di fianco Giusto un cucchiaino Quindi avocado Marmellata Tra l'altro questa marmellata americana A differenza dell'Aero light E' chimica Cioè non so Ha un sapore stranissimo Però vabbè Va così Va così Va bene ragazzi Ma hai fatto vedere la bellezza di questi piatti? Si No non è vero guarda Guardate che roba Eh? Allora adesso mangiamo Che stiamo morendo di fame E niente Spero che vi sia piaciuto questo nostro primo video Primo video Quindi vabbè Accontentiamoci così Al prossimo meglio Per ora intera Anzi diteci Dateci dei consigli su come correggere le cose Assolutamente Buona colazione Ciao ragazzi Godimento Godimento